La cooperazione in Pakistan, entro certi limiti, è una cooperazione molto recente e molto nuova per l'Italia, che pure però riposa su una tradizione piuttosto consolidata e di oltre 30 anni di scambi. Il Pakistan è tra i paesi asiatici ancora affetto da grave problemi di povertà, soprattutto nelle aree rurali del paese. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto di lavorare soprattutto in ambito rurale per il miglioramento di condizioni di vita delle popolazioni e della produzione agricola. Questo straordinario progetto caratterizzato da elementi di grande modernità, che è il progetto di diversificazione agricola realizzato dall'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze, ha avviato un processo di modernizzazione del settore agricolo, base di ogni sostentamento e ricchezza del paese. Istituto Agronomico per l'Oltremare, un organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero Affari Esteri, collegato principalmente alla Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo Italiana. È un organo di consulenza che opera prevalentemente all'estero per progetti di cooperazione per cercare di sostenere le popolazioni, in particolare delle zone rurali, e per migliorare le condizioni di vita. In questo contesto di evoluzione della cooperazione italiana allo sviluppo, l'Istituto Agronomico per l'Oltremare è presente in Pakistan, in una zona particolarmente delicata, quale lo Swat vale, per cercare di introdurre e trasferire le conoscenze tecnologiche, in particolare per il settore della frutticultura. Grazie per l'Oltremare e trasferire le conoscenze dell'Oltremare e trasferire le conoscenze le conoscenze dell'Oltremare e trasferire le conoscenze dell'Oltremare. Il senso della partecipazione della cooperazione bilaterale italiana è sostanzialmente questo, dare sostegno a una delle regioni tanto più belle e più ricche del paese, tra certi limiti, ma anche più afflitte da tutta una serie di fattori che ne hanno, soprattutto in anni recenti, fortemente minato lo sviluppo, il benessere economico e anche la stabilità, la pace delle sue genti e che sono legate a grandi fattori di natura anche politica, problemi di insorgenza e di instabilità di questa regione e poi le grandi inondazioni che fin dal 2010 e con altre che sono succedute hanno devastato le infrastrutture produttive. La Valle dello Svat presenta tracce di occupazione sin da età paleolitica. I laghi di origine glaciale devono avere senz'altro contribuito a mitigare il clima e ad aprire questi territori alla presenza umana, così come in Kashmir. Questo microclima speciale ha permesso il doppio raccolto per tutta l'età protostorica. Alessandro Magno nella tarda estate autunno del 327 a.C. conduce qui una sua campagna militare personalmente laddove il grosso dell'esercito fu mandato ad Attoc e quindi i nomi delle città di Basira, Ora, entra nella storia classica attraverso i resoconti di Ariano e di Cursio Rufo. Nel periodo buddista, ovvero sia nell'età dell'oro del buddismo, nel periodo Gandharico, dal primo al terzo secolo, c'è un fiorire di aree sacre buddiste in tutta l'area. Possiamo considerare circa 5.000 il numero di aree sacre che devono essere presenti in quell'epoca. di Pashtun, in un certo senso possiamo dire che lo Yususei State of Swat, lo stato Yususei dello Swat che, visto dal 1919 al 1969, portò la definitiva islamizzazione della valle dello ... Quagrava? Grazie a tutti. 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 a tutti.